Interrogazioni sulla viabilità del comune di Alcamo, in particolare via Vallenuccio e via Vivaldi. Sentiamo i particolari nell'intervista al consigliere comunale Giovanni Calambrino del gruppo Misto. Siccome la via Vivaldi è un po' trafficata, anzi molto trafficata dove c'è la posta per intenderci, io vi chiedo sull'interrogazione che voglio che dalla via San Leonardo si faccia solo a scendere. L'altra interrogazione sulla via Vallenuccio, che scendendo dal primo cimitero, che va a finire sempre quella strada, la strada 113, chiedo di aprirla. Perché? Perché scendendo quella strada è molto più scorrevole anche la strada che andare al Canavotto. È solo chiusa con un guardareale, non ci sia neanche grossi interventi da fare. Quindi degli interventi che comunque toccano sempre la strada 113, 113 che ad oggi è interessata anche da altri lavori come la rotatoria, quindi un problema serio di viabilità. Certo, quella strada secondo me, intanto con la rotatoria che si fa, si va a diminuire un pochettino anche la velocità, penso. Però mi pare che si sta facendo troppe aiole, non so, magari per la viabilità potrebbe essere anche peggiorata quella situazione, quella rotatoria. Però, guarda, appena si fa, appena non la vediamo tutta aperta, non possiamo neanche parlare di questa cosa. Perché vedo che con l'agenzia di natura che c'è ancora non si capisce tanto niente del...